E ora è l'ora per una delle migliori madhouse del mondo, la Magic House. E ora andiamo a fare la Magic House, una delle Madhouse Vekoma migliori al mondo, forse la mia preferita in assoluto. Vediamo come è ridotta anche lei. Su, coraggio! Accomodatemi! Da questa parte! Oh, benvenuti! Entratemi! Accomodatemi! Finalmente posso stare a qualcuno, a mia nuova casa. Mi piace! I miei amici non vengono mai a trovarmi qua giù. Dicono che in questa casa ci sono una strada presenta. Ma non è vero. Ho guardato da un percorso e non ho trovato alcuna traccia. No! Ma non ho trovato che faccia, pensate che qui ne sia qualcun altro. Comunque ora ci sono io. Sì, in effetti ogni tanto sento dei rumori strani. Ma in ogni caso si sentono dei rumori strani, no? A di sé, più non la sentivo da solo... Basta! Renzevolo, basta dire giochette! Questa è la mia risultata! Sì, è vero. Sì, è vero. Non è vero. Non è vero. Non è vero. Ho cercato un luogo all'altro dove costruire il mio laboratorio. Tutti avevano il mio magico potere. Nessuno osava vivere vicino a me. Così, ho deciso di costruire questa casa segretta in profondità sotto un albero. Sembra una casa qualsiasi. E io sono un luogo all'unico che la vedi, no? Non capisco che mi abita un bagno. Ma... Credetemi... Questa casa è molto utile dall'essere... ...dol'imbar... Adesso ve la farò visita. Ma ogni cosa che dire dovrà fare... ...un secarreto. Un secarreto. Un secarreto. Un secarreto. Guardatevi intorno. Ho fatto un luogo. Meno persico. Se ne hai hai accorto. Ma vedete, se è tutto normale. Ma non lo è. è molto è molto normale oh my god oh my god Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.